Buongiorno bambini, le maestre dei tulipani e dei girassoli hanno pensato di proporvi un'attività per divertirvi un po' insieme alla vostra famiglia. Quello di cui avete bisogno è un sacchetto di plastica trasparente ermetico, una ciotolina con dentro della schiuma da barba e uno o due colori a vostra scelta che possono essere tempere o colori alimentari. Ora prendete la ciotolina con dentro la schiuma da barba e con un cucchiaio mettete, versateci il colore che avete scelto per poi mescolare. Dopo prendete il sacchetto di plastica e mettete dentro il colore che avete scelto, io l'ho già preparato e ho messo dentro l'azzurro e il giallo. Dopodiché fatevi aiutare dalla mamma e dal papà ad attaccarlo alla finestra. Ora che il vostro sacchetto è attaccato alla finestra potete usare delle vostre manine per fare delle meravigliose tracce, o se no è un'alternativa anche usare dei coton fioc. Ora, buon divertimento!